Con una prestazione di notevole personalità e un tridente, finalmente in grande spolvero, l'Avellino è riuscito nell'impresa di battere la Turris a domicilio e restare nella scia del Bari. Merito anche di Piero Braia, che contro la sorprendente squadra di Bruno Caneo, è passato dal 4-2-3-1 ad uno speculare 3-4-3. Una mossa vincente, anche se l'inizio è stato da brividi, perché i Corallini si sono visti prima annullare un gol per offside di Leonetti e poi hanno trovato il vantaggio con un esterno destro d'applausi di Tascone, libero di colpire indisturbato. Una doccia più fredda dell'acqua, caduta coppiosa su Riguori, che non ha gelato l'Avellino. Anzi, i biancoverdi hanno reagito alla grande trovando il pari con un'azione corale che ha visto Ciancio mettere in mezzo un assist davvero invitante per D'Angelo. L'ex Livorno, non nuovo a certe prudezze, in acrobazia ha realizzato un gol d'antologia che è facile vedere solo nei cartoni animati giapponesi. Per nulla pagati del pari, i biancoverdi hanno subito dopo sfiorato addirittura il vantaggio con l'ennesimo colpo di testa finito sui pali di Silvestri, ma invece di disperarsi gli Irpini hanno lo stesso centrato l'obiettivo alla mezz'ora. A confezionare l'azione vincente è stato un inarrestabile Canutè che ha messo Di Gaudio nelle condizioni di superare Perina con un tocco morbido che ha mandato in estasi i 400 tifosi al seguito. Quanto basta per giustificare una vittoria netta, anche perché nella ripresa i ritmi sono crollati in maniera vertiginosa e la Turris di Caneo è riuscita solo in rare occasioni a farsi pericolosa, come nel caso di Finardi che si è smarrito davanti a Forte. Contro l'Avellino di Braia ha controllato agevolmente l'avversario reclamando un calcio di rigore con Maniero nel finale. Ultima emozione di una giornata importante, sancita dalla pace definitiva con i tifosi e la convinzione che probabilmente per il primato non è ancora tutto perduto.